Ma ai fidanzati che si trovano, soprattutto agli adolescenti, ma anche agli adulti che stavano insieme magari non in una stabile coppia, in una famiglia di fatto, in una coppia normale, ma soprattutto gli adolescenti che hanno cominciato con i primi amori, la distanza diventa un bacco di prova, nel senso che tante cose che stavi sperimentando possono diventare talmente importanti che senti di non poterne fare a meno, allora ti cresce il desiderio di incontrare l'altro, poi scattano delle volte le paure abbandoniche, per cui si sta magari le ore a parlare, adesso con i telefonini ci si vede, no? E quindi il bisogno di riscoprire nella distanza l'importanza e la consistenza dell'amore. Io direi che le distanze sono sempre state problematiche per i rapporti sentimentali, nel senso che l'esigenza dell'essere umano, la prima traccia di legame con la vita è l'odore. A poche ore della nascita un neonato colge già la bocca verso il batufolo intriso del latte materno e non verso un batufolo intriso d'altro latte. Quindi è l'odore, è la prima traccia di vita, l'odore della madre, l'odore dell'atte materno, l'odore. Quindi quando hai a che fare con una storia d'amore, eccetera, se la persona non è presente, è soltanto virtualmente presente, non ne senti l'odore, non ne avverti la fisicità, non puoi stendere una mano per dare un abbraccio, alcune cose vengono salvate da vista, ma non l'olfatto, ma non il contatto. E allora ecco, io direi che è molto importante in questi momenti, anzitutto non spaventarsi, perché la paura è, siamo distanti e quindi ci perdiamo. E magari trovare l'occasione invece per dialogare, cosa che magari quando sei a contatto fisico, soprattutto se sei molto giovane, se sei giovane, se fai le prime esperienze di contatto fisico, le prime esperienze sessuali, magari non lo fai, non hai tempo per parlare, hai tempo per amare, per amare fisicamente anche l'altro. Invece le distanze ti possono far riscoprire un po' quello che le bisnonne, le nostre trisnonne, anche le nostre nonne, consideravano un amore tracciato per lettera, magari gestito attraverso una telefonata. Quindi riscoprire un amore che ha degli aspetti romantici proprio perché è a distanza. E poi vorrei sottolineare che se la distanza fa chiudere l'amore, fa finire l'amore, e io non me l'auguro, non me l'auguro, beh, si tratta di un amore che non reggeva la distanza. E gli amori che non regolano la distanza significa che non sono entrati fin in fondo nell'immaginario, nel cuore e nel sentimento di una persona. Quindi hanno bisogno della presenza. E sono sinceramente tante volte così immaturi che è come se si trattasse di bambini che hanno bisogno della mamma o del papà per essere sicuri che la cosa funzioni. E molto spesso, quando la mamma e il papà si allontanano, pensano che non possano tornare. Quindi io credo che questa distanza slatentizzi tante paure dell'abbandono, del bisogno della presenza, la paura tante volte che è anche il problema del controllo. Cioè ti controllo virtualmente ma poi non ti posso incontrare praticamente. Ecco, io consiglierei ai fidanzati, agli innamorati, a quelli che desiderano amarsi, di considerare la distanza un utile banco di prova, una possibilità e non farsi cogliere o tentare perlomeno di non farsi cogliere da questo meccanismo abbandonico. E' più controllante un amore virtuale che non un amore vissuto fuori di casa. Perché la virtualità controlla molto di più, però ha un'intensità di tipo diverso e perde il contatto con tante cose. Grazie.